il discorso discorso vabbè lo fate voi mi taggate ma lo faccio prima o dopo? discorso prima prima dopo durante prima il discorso ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto e invece ma stavolta la verità ha vinto ringrazio tantissimo antonella per il suo sostegno il vostro sostegno tutti i fandom che ho capito sto capendo che insomma si sono attivati veramente avete fatto un lavorone che non riesco ancora immaginare a comprendere ma siete stati unici quindi la mia vittoria in realtà è la vostra vittoria perché grazie a voi c'è di base e ho vinto quindi anzi togliendo di base quindi vi ringrazio un sacco vi ringrazio anche etrusco e vi mando un bacio gigante grazie grazie infinite